Lezione numero 48! Ne mancano pochissime e siamo alla 50 e ho deciso di dedicare questa lezione a quella che forse è la mia pratica preferita del Karate, i Katà. Che scosa sono e perché li dovresti praticare? Ciao De Eugenio e benvenuto o bentornato o benvenuta o bentornata a questa nuova lezione di Karate, delle 50 lezioni di Karate! E' gratis per tutti, siamo in dirittura di arrivo, siamo alla lezione numero 48, ne mancano soltanto più due dopo questa e oggi ho deciso di, in realtà di farmi un regalo perché mi piace tantissimo parlare di questo argomento, di parlare di Katà. Ma che cosa sono? Perché li dovresti praticare? Nonostante, ebbene sì, lo ammetto, io ne abbia già parlato in un podcast. Però continuano ad arrivarmi dei commenti o delle domande in merito, allora io più che volentieri, dato che è un argomento che a me appassiona molto, ho deciso di dedicare questa lezione a questa che è l'arte nell'arte, o ancora meglio, da questi che sono i libri di testo del Karate. Mi ho parlato parecchio, tra l'altro, nelle ultime lezioni. Cosa sono i Katà e perché dovresti praticarli? Beh, i Katà, diciamo che visti da fuori altro, non sono che una sequenza di tecniche concatenate tra di loro, che si imparano a memoria. Si dice che derivino dai Quan Fa, del Kung Fu, che erano degli espedienti mnemonici per ricordarsi degli stili di combattimento. Ok? E poi da lì, bene come sia accaduto non si sa, perché di roba scritta nel Karate non c'è niente, perché sono arrivati a Okinawa, a Sti Quan Fa, hanno iniziato a lavorarci sopra, pian piano sono arrivati i Katà. Katà che vuol dire modello. E ogni stile ha i suoi Katà, nello Shotokan sono 26, gli altri stili ne hanno di più o di meno. Spesso quando si vede il Katà non si capisce il perché effettivamente andrebbe praticato, il perché va allenato, perché io devo allenare quella sequenza di tecniche così, perché devo allenare quegli spostamenti nello spazio così, perché devo urlare in quelle tecniche, ma chi me lo fa fare? Mi sento anche un po' stupido. E la spiegazione che solitamente si dà è perché sono dei combattimenti contro degli avversari immaginari. Vero, queste sequenze, i Katà, rappresentano dei combattimenti contro una moltitudine di avversari. Quando tu pratichi un Katà devi immaginare di essere circondato e di doverti difendere da questa moltitudine di avversari. Però, a parer mio, come motivazione, è un po' povera, ok? Non trova, diciamo che non dà quella pill alle persone per mettersi a praticare, a ripetere, a ripetere i Katà, perché i Katà vanno praticati lungamente, per molto tempo, con occhi aperti, cuore aperto. E una volta c'era la metodologia Itokata Sammen, quindi un Katà ogni tre anni, giusto per farti capire quanto venivano ripetuti, ripetuti, ripetuti. Io credo che i Katà vadano praticati principalmente per tre motivi. Il primo è che, a tutti gli effetti, sono i libri di testo del Karate. Tu, all'interno dei Katà, puoi trovare tutto il Karate che puoi imparare. Nei Katà sono custodite le tecniche che si stanno perdendo, le metodologie, le tecniche, diciamo così, di difesa personale applicabili in corta distanza. Nei Katà sono custoditi alcuni segreti che non è sempre facile andare a reperire, proprio perché sono stati volutamente nascosti. Nei Katà è nascosta una storia, perché ogni Katà ha la sua storia, rappresentata dal suo nome, da come è arrivato a Okinawa, da chi l'ha ideato, da come è stato modificato nel tempo. E per cui già solo per questo, a parer mio, andrebbe praticato. E il Katà, praticare il Katà, è come leggere un bel libro, nel senso che ogni volta che lo leggi, ogni volta che lo rianalizzi, trovi qualcosa di nuovo, trovi una chiave di lettura nuova, trovi diversi livelli di lettura. Perché quello che per te, magari, è una parata o un contrattacco, per me può diventare una proiezione, per me possono essere due parate, o una parata e due contrattacchi, o una parata e una leva, una parata o una rottura articolare. Perché? Perché ho esperienze diverse, una strada diversa rispetto alla tua, e posso leggere il Katà in maniera differente dalla tua. E questo non fa sì che la mia sia giusta e la tua sia sbagliata, ma semplicemente che leggiamo in modo differente. E un confronto non può fare altro che arricchirci. E quindi il Katà, oltre ad essere il libro di testo, potrebbe anche essere argomento di dibattito, di confronto e di crescita reciproca. Altro motivo è perché nel Katà tu alleni un'arte nell'arte. Perché niente come il Katà ti insegna a muoverti, a controllare la tecnica, a controllare la respirazione, la coordinazione, a gestire il corpo e a renderlo più tuo. Sì, sì, il corpo, eh, non il Katà. Proprio per come è stato strutturato, per come è stato ideato, per come è stato assemblato. E per cui il Katà diventa davvero arte nell'arte e come ogni forma d'arte può essere interpretata. Ed ecco allora che non solo io posso leggerlo in maniera diversa da te, ma io posso anche interpretarlo in maniera diversa da te. E la mia interpretazione può magari calcare la mano su alcuni punti e tu invece puoi calcare la mano su altri. Io posso cambiare i tempi e tu puoi decidere di seguire degli altri tempi, degli altri, delle altre modalità di esecuzione. E di nuovo diventa una cosa sempre più tua, sempre più intima. Un po' come andare a suonare un brano musicale. andare a reinterpretare quel brano musicale, rimanendo fedeli all'originale però, eh. E poi il Katà può diventare una forma di meditazione in movimento, proprio perché ti stimola a concentrarti sulla respirazione, sui movimenti, sul controllo del corpo e fa sì che la tua testa, la tua mente non vaghi, ma rimanga lì, ancorata al tuo qui ed ora. Ed ecco allora che con una singola pratica tu puoi studiare il Karate, la sua storia e le sue tecniche, puoi dar, diciamo, libero sfogo alla tua personalità e puoi avere uno strumento che ti aiuta a trovare pace e equilibrio. Per esempio, a me purtroppo durante l'anno capita, ci sono delle notti in cui io ho difficoltà a dormire. E sai cosa faccio? Chiudo gli occhi e pratico il Katà. Non nel letto, eh, se no Valeria va la gioia, la gonfio, ma qua dentro. E è un'altra forma meravigliosa di pratica, intanto perché ti fa capire se realmente ti ricordi quel Katà oppure no, e poi perché ti fa vedere il Katà sotto un altro punto di vista ancora. E a me, personalmente, è un qualcosa che aiuta molto a trovare la pace, la tranquillità e mi aiuta ad addormentare. Ecco quindi che ti ho dato non una ma, lo hai dato dito, non una ma ben tre valide motivazioni per praticare il Katà. E poi ovviamente, beh, c'è la parte applicativa. Il Bunkai, quindi quando prendi e spezzetti il Katà e lo applichi esattamente così com'è, come lo esegui, e lo Jo, o Yo, come pronunciano alcuni, cioè un'applicazione più libera, più inerente a quella che è la tua interpretazione, che comunque deve seguire il Katà. E allora lì di nuovo si apre un altro mondo. Volendo, uno potrebbe passare un mese, anche di più, facciamo tre mesi, ad allenare un singolo Yang. E ne uscirebbe arricchito. Stiamo parlando di un Katà di base. Pensa quanto si potrebbe imparare, quanto potresti portare a casa dai Katà superiori, per esempio. Lo so, questo richiede di fare di nuovo un passettino indietro e togliersi da quelle dinamiche di gare, di agonismo, di dover preparare il Katà per il punteggio e di invece preparare il Katà per se stessi. E non tutti ci sta, hanno voglia di farlo. Ma ti posso garantire che se avrai il piacere di provarci, anche una volta sola, anche con un solo Katà, ne uscirai estremamente arricchito. Direi che per la lezione di oggi è tutto. Io ti suggerisco di provare a praticare i Katà, così come ti ho detto, di prenderti i tuoi tempi e di analizzarli piano piano, dolcemente, anche un po' col microscopio, per cercare di capirne i segreti, di capire cosa c'è nascosto lì dentro e di abituarti a questo tipo di pratica. E ti garantisco che il tuo Karate ne uscirà arricchito. Io ti do appuntamento alla prossima settimana per la penultima delle 50 lezioni di Karate. Le ultime due saranno due lezioni molto particolari. L'ultima in modo particolare, perché andremo a parlare di una cosa a cui tengo molto, e ci sarà anche del materiale che potrai scaricare. Quindi mi raccomando, non te lo perdere. Io fino ad allora ti auguro una buona pratica e ricordati che per qualunque cosa sono qui. Alla prossima settimana. Ciao!